Diamo il benvenuto a Sergio Romano. Già ambasciatore dal 1954 al 1989, la sua carriera lo ha portato a Parigi, Londra e Mosca, è diventato commentatore per la stampa e quindi per il Corriere della Sera. Scrittore ed intellettuale ha insegnato ad Harvard e nelle università della California e alla Bocconi. Nel 2010 ha vinto il prestigioso premio E-Giornalismo. Grazie, soltanto una breve premessa perché altrimenti non capireste il senso della prossima lettura. Come avete capito dalle letture precedenti, questa grande missione geografica e anche politica serve naturalmente ad acquisire terre per il re di Spagna, ma anche a cristianizzare una gran parte dell'Asia. Infatti molte delle letture che avete ascoltato concernono per l'appunto il problema del battesimo, del catechismo, eccetera. Beninteso, non è poi così difficile cristianizzare queste popolazioni, perché non sono popolazioni religiose con religioni del libro, vale a dire della rivelazione. Per loro la terra è piena di divinità, alcune buone, alcune cattive, ci si rivolge a ciascuna di queste divinità per risolvere un problema, per guarire una malattia, ma in realtà il concetto di divinità è piuttosto superficiale e invece il monoteismo è straordinariamente efficace. Per di più è efficace perché è portato in quei paesi da persone che hanno i cannoni e che quando arrivano di fronte a un'isola sparano le loro bombarde, cosa che gli altri non hanno mai, i loro futuri fedeli non hanno mai conosciuto e naturalmente ritengono che se il loro Dio dà loro questo potere, il loro Dio deve essere infinitamente migliore dei miei e si cristianizzano abbastanza rapidamente. Vi ho raccontato tutto questo perché nell'isola in cui la spedizione Magellano arriva, l'isola di Matan, vi sono due rajah, due sovrani, due signori, due re, di cui uno si converte e l'altro non si converte. Ed è per questo che accade quello che adesso ascolterete. Zula, signore dell'isola di Matan, ha mandato uno dei suoi figli con due capre per farne dono al capitano generale. Gli ha fatto anche sapere che avrebbe voluto mantenere interamente le sue promesse, mandandogli degli uomini armati, ma ne era stato impedito dall'altro signore dell'isola, Celapulapu, che non intendeva obbedire al re di Spagna. Durante la notte avrebbe potuto inviargli soltanto un battello carico di uomini armati, che lo avrebbero aiutato a combattere, ma il capitano generale decise di andare lui stesso nell'isola con tre battelli. Lo pregamo di non accompagnare i suoi uomini e di restare a bordo della nave, ma lui, come ogni buon pastore, non volle abbandonare il suo greggio. Partimmo a mezzanotte ed eravamo sessanta, armati di piccole corazze e di elmi di ferro con visiera. Erano con noi il re convertito al cristianesimo, i principi ed alcuni notabili, tutti su una tarantina di navicelle e arrivamo a Matan tre ore prima dell'alba. Il capitano non volle dare subito combattimento, osservendosi del moro Enrique. Enrique era un interprete, veniva dalle Filippine, ma era stato conosciuto Magellano a Sumatra e a Sumatra Magellano lo aveva comperato. Così si faceva. Allora, mandò a dire che se Zula avesse obbedito al re di Spagna, se avesse reso omaggio al re che era già stato convertito e se avesse pagato il tributo gli sarebbe stato amico, ma se avesse agito diversamente avrebbero presto scoperto come e quanto ferissero le nostre lance. Gli fu risposto che se noi avessimo lance, loro avevano canne e pali induriti dal fuoco. Dissero anche che se non fossimo andati subito all'assalto e avessimo atteso l'arrivo del giorno, loro sarebbero stati ancora più numerosi. Parlavano così, nella speranza di persuaderci ad attaccare, perché avevano scavato fossati fra le case e speravano che, avanzando nel buio della notte, noi vi saremmo caduti dentro. Arrivato il giorno, 49 di noi saltarono nell'acqua sino alle cosce e camminammo per due tiri di balestra, sino a quando arrivamo sul lido. I battelli non poterono andare oltre perché l'acqua era piena di scogli. Quegli scogli, tra l'altro, erano in realtà coralli, a quanto pare, così perlomeno dicono i geografi oggi. Gli altri undici uomini ristarono a guardia dei battelli. Quando arrivammo in terraferma constatammo che quella gente si era divisa in tre squadroni ed erano più di 1500. Non appena ci videro ci vennero addosso gridando, due ai fianchi e uno di fronte. Quando lo vide il capitano ci divise in due gruppi e così cominciamo a combattere. Gli archibugieri e i balestrieri tirarono da lontano per quasi mezz'ora, inutilmente, riuscendo soltanto a colpire grossi scudi di legno. Il capitano gridava non tirate, non tirate. Quando gli indigeni si accorsero che stavano tirando inutilmente, che stavamo tirando inutilmente, decisero di non muoversi ma soprattutto continuavano a gridare. Quando avremmo scaricato i nostri schioppetti, quelli non smettevano di saltare di qua e di là coperti dai loro scudi e di tanto in tanto lanciavano frecce di canna con la punta indurita dal fuoco, qualche freccia di ferro contro il capitano generale, fango e pietre da cui a malapena potevamo difenderci. Vedendo questo, il capitano generale mandò qualche uomo a bruciare le loro case per spaventarli. Quando videro che le loro case stavano bruciando, divennero ancora più feroci. Accanto alle case furono ammazzati due dei nostri e le case bruciate furono venti o trenta. Ci vennero addosso, sempre più numerosi, con una freccia avvelenata riuscirono a colpire il capitano alla gamba destra. Il capitano allora ci domandò di ritirarci lentamente, ma molti invece fuggirono, ragion per cui a restare con il capitano fummo tra sei e otto. Gli indigeni tiravano soltanto le gambe perché erano nude. Per le tante lance e pietre che ci tiravano addosso non potemmo resistere. Le bombarde dei battelli erano troppo distanti per aiutarci. Continuamo a ritirarci quindi per più di un tiro di balestra dalla riva, sempre combattendo nell'acqua sino alle ginocchia. Continuarono a seguirci e raccoglievano da terra le lance già usate per usarle ancora, quattro, cinque, sei volte. Quelli conoscevano il capitano ed erano così numerosi che per due volte riuscirono a fargli cadere l'elmo dalla testa, ma lui da buon cavaliere teneva duro. Insieme agli altri uomini combattemmo per più di un'ora e poiché il capitano non si ritirava, un indio gli tirò una freccia di canna contro il viso. Il capitano si servì della stessa lancia per ammazzarlo e gliela lasciò nel corpo. Cercò allora di prendere la spada, ma riuscì a sguainarne soltanto alla metà perché era ferito al braccio da una canna. Quando se ne accorsero tutti gli saltarono addosso e uno con un grande coltello più grande di una scimiterra lo ferì alla gamba sinistra per cui cascò a faccia in giù. Subito gli furono addosso con le loro canne e i loro coltellacci sino a quando ammazzarono il nostro specchio, la nostra luce, il nostro conforto e la nostra vera guida. Mentre lo ferivano ripetutamente si voltò indietro per vedere se eravamo tutti nei battelli. Poi vedendolo morto decidemmo riuscimmo di ritirarci sui battelli che già stavano partendo. Il re convertito al cristianesimo ci avrebbe aiutato, ma il capitano ancora prima di sbarcare gli aveva raccomandato di non allontanarsi dalla sua barca e di stare a guardare come noi sapevamo combattere. Quando seppe che era morto il re convertito al cristianesimo pianse. Senza il nostro povero capitano saremmo tutti morti perché mentre lui combatteva gli altri si salvavano sui battelli. Grazie a tutti.